In the morning I'll be fine, in the morning I'll be right, if I go all the way Salve a tutti ragazzi, qui mi è Dara ed eccomi al mio primo vlog Sì, sono io, io, sì, io Domande subito spontanee, cazzo, sei interista? Sì, sono palesemente interista, come si può ben vedere Diciamo che questo primo vlog ce l'ho anticipato, perché ho la fallo per i mille iscritti E quindi ringraziare tutti Però ragazzi, non voglio ringraziare tutti, come si dice sempre Sì, ringrazio tutti i miei iscritti, no, non li ringrazio tutti Ringrazio quelli che mi seguono, ringrazio quelli che mi mettono mi piace, che commentano Che anche soltanto che guardo nei video, se per caso sei capitato dentro questo video Sei un mio iscritto e non mi segui, c'è il tastino qua in basso Ho scritto iscritto, cliccalo Così tu non mi vedi più, perché ragazzi Sì, sì, sono contento che il canale sta andando avanti bene, diciamo Che gli iscritti aumentano Però dove sono tutti questi iscritti? Cioè, che senso arrivare al traguardo di mille iscritti Se poi, effettivamente, se ne ho 150 Ma falla grossa, proprio, ma tirala Sono 200 quelli che mi seguono Cioè, in questo periodo davvero sto avendo un crollo pazzesco Delle visualizzazioni Io ho preso la partner quasi un mese fa ormai E avevo 550 vive al giorno di media Per quello me l'è andata E adesso siamo arrivati ad averne 150 Di cui 100 sono visualizzazioni O della prima puntata di Lego Signore degli Anelli Che è abbastanza famoso ormai O del pacchetto dal mondo dell'FTB 1.4.2 Che ho fatto, che ha più di 5.000 visualizzazioni, penso Quindi è abbastanza legato in moto di cercare di YouTube Quindi ha abbastanza gente la cerca Ragazzi, non so Ditemi voi cosa volete Io, non so, vi ha stufato l'FTB Vi ha stufato il... Eh, no, non avrei stufato Vanilla Coltubo Perché ho fatto solo 4 episodi Comunque, se vi è stufato l'FTB, ragazzi Perché la fa Duke La fa Quit La fa Creda La fa tantissima gente Ditemelo Facciamo altro Io ho già in mente di fare un mini pacchetto mio Che si basa principalmente sulla Better Than Wolf Che comunque è una mod Che ha, diciamo, abbastanza macchinari Però È più a fasi Si parte che siamo nell'età della pietra Piano piano ci facciamo tutti i nostri macchinari Ci evolviamo E la base, diciamo, del... Come si chiama? La base di partenza per costruire tutto Diciamo Sarà la gangia Certo La gangia, ragazzi Almeno Fandosi a giocarlo nel 1.1.5 Cioè la gangia Con la gangia facevi tutto Si facevano anche Nel inizio del 1.9 C'erano ragazzi Potete sapere Che c'erano delle macchine Che erano state costruite a gangia Quindi Tu Ma proprio tutte le gangia Le gomme di gangia Il parabrezza di gangia Tutto di gangia Quindi tu andavi a sbattere E invece di urlarti Di dove potevano i miei macchinotti Fumavi un po' della gangia Che è caduta per terra E lì a posto Perché dalla gangia L'arriva la camera Una roba del genere Non mi ricordo Comunque sono In conciate Bene Quindi ragazzi Non so Io mi sto impegnando tanto Per voi Vi sto sponsorizzando Abbastanza Questi giorni Se negli ultimi video L'ho fatto un pochettino meno Anche se comunque C'ho una lista Quindi ci persone A sponsorizzare In lista ancora Pian piano Sponsorizzo tutti Però Non avevo voglia Di perdere anche Soltanto quel minuto Per sponsorizzarvi E per montare il video Perché i risultati del canale Non Mi hanno fatto perdere Un pochettino la voglia Ecco diciamo E Cioè Mi sto impegnando Anche con La Ita Games Staff La staff Di Games TV E Sto accedendo i video Gli sto Io e Madda Effect Stiamo Sì siamo quelli Che accettano i video Essendo Il fondatore E col fondatore Ho fatto Tutta la gestione Di invio video Accettazione video E Informatizzata Ho fatto Anche il forum Che però Abbiamo deciso di Cioè Era un forum Per noi Dello staff Per organizzarsi Alla fine Diventava complicato Per me Gestirlo Per gli altri Vederlo Le autorizzazioni Che mi ha deciso Di fare Una panetta di facebook Gaffanculo Però comunque Era una cosa Che mi ero impegnato A fare E Diciamo che Non dico che È tempo buttato via Perché io In ogni caso Anche se Faccio fatica A avere 100 visualizzazioni Al video Perché ormai è così Io mi diverto ancora A fare i video ragazzi Anche se Sono un pochettino Ne motivato Però comunque Porto via tempo Ad altre cose Che facevo prima Non porto via tempo Alla Alla molosa Quello no Però porto via tempo Alla mia seconda donna Ragazzi che È Jennifer Vi faccio conoscere Jennifer Eh Ma questa è Jennifer Ragazzi La sto Un pochettino Abbandonando Perché ragazzi Le chitarre Sono come le donne A mio parere Vanno fatte urlare Quando c'è da farle urlare Ma vanno anche coccolate Quando c'è da essere coccolate Quindi Jennifer Infatti in questi giorni Che non ho caricato video Mi sono rimesso Abbastanza di impegno Con lei Del libro Comunque Sì Ragazzi Questo diciamo Che sarà il massimo Dell'incazzatura Che Ma non è che sono incazzato Sono E neanche deluso Sono Diciamo quasi Di constatazioni Però Quelli che sono iscritti Che non mi servono Si disiscrivono Mi faccio un piacere Perché preferisco Veramente Avere 300 iscritti Che non averne Mille Di cui Se va bene 200 mi guardano Cioè Passiamo un attimo Il desktop Per farvi vedere Innanzi Ci ho un ciro Su desktop Inforzo Inforzo Inforco i miei Mega occhiali Da nerd Ragazzi Che ho perso Quanto non ho Non lo so Tanto comunque Giocando a World of Warcraft Che non reputo Un gioco di merda Anzi Andiamo sul mio canale Allora 4117 iscritti Bene Ok Quanti mi seguono? Metà? Neanche? Andiamo a vedere Che Questo video Che ho lasciato Per due giorni In In Primo piano Mi ha fatto 111 visualizzazioni In due giorni In background Andiamo giù Anzi Stiamo prima di andare qua E facerebbe La gestione Dei miei video Ragazzi Oh Tanta roba Oh Un commento Vi sa che mi ha commentato Vedete Lì Pianificati tutti Ragazzi Li siamo pianificati Uso un pochettino Da partner E Andiamo a vedere 112 3 Se mi piace 8 commenti Vedete Se non faccio Roba di Minecraft Non posso Neanche i 100 Questo qua L'ho pubblicato Il 9 gennaio Quindi 3 giorni fa 97 visualizzazioni 114 126 100 150 Di media Quando Giochi Animatici Questo qua Che l'ho pubblicato Il 4 gennaio Ha appena passato Penso i 100 visualizzazioni Cioè Quando Se andiamo Un pochettino indietro Da Prima delle vacanze Di Natale Ecco Da dopo Sono crollate 150 170 Ecco Prima 230 180 250 190 Questo è il video Per Kaledan 170 218 220 Passavo Quasi sempre Tranquillamente Le 200 visualizzazioni Tranquillamente Guardate anche i commenti Che avevo Tranquillamente E poi Questa roba qua ragazzi Mi ha fatto incazzare Non so cosa Che anche a Madagher Quanto non è incazzato Quel giorno Leggiamo qua Allora Sono stati Riconosciuti Contenuti Di terze parti Su questo video Questo video ragazzi È il video in cui Costruivo il mulino Ci ho messo Della musica di sottofondo Io La musica di sottofondo Che ho È questa Vado qua Andiamo su Youtube La Si Mi è ricambiata grafica Due giorni fa Anche un'altra cosa Che mi sono incazzato Non so Perché avranno Ho tolto Un backup Che c'era Prima Non so cosa Troverò un altro modo Ragazzi E Buy Buy Copyright Questo canale Ragazzi Per chi non lo sapesse Fa video Completamente Cioè Mette Canzoni Stai buono Senza copyright Quindi uno Può tranquillamente Prendere qualsiasi canzone Che c'è qua Io sono Rock Barra Metallaro Quindi sono andato su rock Tranquillamente Comunque cerco di non mettere musica Troppo pesante Sul mio canale Perché so che a tanti non piace Mi scelgo la mia bella Canzoncina Cos'era? Aspetta Che me la ricordo Anche chi era Lost Anthem Letters Family Questa Esattamente questa Queste canzoni qua Ci possono usare liberamente Perché non c'hanno il copyright Messe sotto Basta che si mette il link del video In descrizione del canale Ok? Andiamo qua Dove era? Quindi tutto a posto E mi dice E il video potrebbe includere musica Di proprietà di una terza parte Lost Anthem A Letters Family Io Giustamente Gli ho mandato il ricorso Me l'hanno rifiutato L'ho rimandato E l'ho spinto Con la minaccia Che se lo rimandavo in uomo Mi chiudevano il canale Siamo arrivati che Per quei 30 centesimi Che guadagnavo Da quel video Neanche proprio Quei 10 centesimi Che guadagnavo Dovete togliermi anche questo E lì Ma dove cazzo Siamo finiti qua? Vabbè Non voglio neanche fare il corso Non voglio fare niente Cioè Ok Cioè Non so ragazzi Cosa volete Ditemi Volete un nuovo pacchetto Volete che faccio un nuovo pacchetto Sto Un massimo carico Un video di Lego E ho giochi automatici Per un giorno Due E mi finisco un attimo Il pacchetto Che ho iniziato a fare Inizio Quello se volete Se vi siete stoffati Dalla FTB Perché comunque ragazzi Almeno una cosa di cui sono contento È che nessuno mi ha detto Ma copy Luke Io ragazzi non copy Luke Non ho neanche guardato La sua serie Proprio per essere sicuro Non l'ho guardata Non so dov'è Non so cosa ha fatto Non so niente Io sto andando avanti Per la mia strada Appunto Ehm Facevo vedere anche le statistiche Diceo So Beh io da sto punto 316 In questi giorni Ho fatto 163 277 178 Di cui sono 80 Le visualizzazioni Dei nuovi video Dei video Le altre visualizzazioni Sono dei video Quelli vecchi Quelli famosi Diciamo Famosi E iscritti Non mi interessa niente Ragazzi Voglio soltanto Avere Le persone che mi seguono Punto Non voglio avere nient'altro Anche visualizzazione del canale Guardate Guardate come se andate giù Anche qua Ho fatto Più di 100 iscritti Con il video per carina Dove sono? Vi siete iscritti Cos'è la cazzo? Disiscrivetevi Il bottoncino E' qua sotto Qua Non so adesso Ben a telecamera Dove è Ma comunque E' qua sotto Qua sotto In basso a destra Disiscrivetevi Non vivo io qua Cioè C'è poco da fare Guardate Volete perdere chi? Guarda Lo dice anche lui Eh No Io sono a posto Ho buttato giù Un pochettino di spalle Perché ragazzi Avete sapere Sembrerà strano Adesso Mi direte Esci Mi dar Non è vero Ma io Ho fatto il bagnino Per Un anno Si Un anno E avevo tempi olimpici Mi hanno detto Vuoi venire a fare agonismo? Io gli ho fatto proprio così Vaffanculo Perché fare agonismo Vuol dire Tutti i giorni in piscina Tutto il giorno Piscina palestra Piscina palestra Non hai video sociale Vaffanculo E si Col fisichetto Ho buttato giù Però Ero meglio Ma non ci lamentiamo Ragazzi Bene Questo piccolo vlog Finisce qua Spero vivamente Che Se Chi mi segue L'abbia guardato tutto Che Abbia capito Diciamo Non proprio La mia delusione Ma le mie constatazioni Che Si Sono comunque Molto tendenti Alla delusione Perché Diciamo che ho avuto Il boom E adesso C'è La flessione Non penso Di chiudere il canale Io non l'ho mai pensato Però Non mi piace L'andamento Che sta prendendo E quindi Vi chiedo Vi chiedo Anche se non Mettete mi piace Anche se non commentate Basta che probabilmente Nel video Li vedete Questo Questo mi basta E Basta tutto qui Ragazzi Devo farvi vedere Anche la community Che sta crescendo Siamo arrivati a 128 iscritti Questo qua È il modulo Che ho creato io Quello che vi dicevo Per mandare i video Basta che andate qua E mettete tutto Come anticamente Andrò nella nostra tabella E basta ragazzi Per Soltanto questa cosa Per curiosità mia Che mi metto in mente adesso Per vedere Veramente In quanti Iscritti e fans Ho Quindi Uno che Sarà arrivato Fino alla fine del video Fino adesso Che l'ha visto tutto Che Può anche dirmi Si stai sbagliando Si non stai sbagliando Non so Per dirmi tutto Però se mi segui Per piacere Metti mi piace Perché voglio veramente Vedere in quanti siamo Siamo in 10 Siamo in 20 Siamo in 30 Siamo in 100 Siamo in 200 Non lo so Basta che per piacere Se Sei arrivato fin qua Metti mi piace Perché voglio Capire Per me stesso Se No se vale la pena Andare avanti Se sto Se sto raccogliendo Un pochettino I frutti Diciamo Di quello che ho seminato Se si può dire così Quindi ragazzi Da Medara E dalla sua Jennifer È tutto Ciao a tutti ragazzoni Ah si Sono brutto Lo so La fine del video Lo dico Non importa Sono brutto Non vi preoccupate Ciao a tutti 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 Ciao a tutti